Oh, 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 missione secondaria, che succede? Un cacciatore? Vediamo cosa ha da dirci questo cacciatore, innanzitutto prendiamoci un fucile, no un arco, dai, prendiamo l'arco stavolta Vediamo Che succede, micro mia? Vai, vediamo che cosa hai intenzione di prendere Che genere di animale stai tracciando? Eh, che genere di animale stai tracciando sto qui Vedi che cacchio stai parlando Buona fortuna Ma che cacchio Ma non so che se ti sparassi qui nessuno si accorgerebbe di te Cerca di farmi cazzare, va Ma ora questo Ai, 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 ai Allora, andiamo dal capitano Monroe a vedere che cosa ha da offrirci per aiutare la riserva indiana E poi andiamo di nuovo da sedi Ma è una prossima missione, suppongo Wapiti Non puoi portare armi in quest'area Non ho neanche la min... cioè La lontana intenzione di portare armi in quest'area, ovviamente Forza Forza Andiamo di qua Salve capitano Che mi racconta? Come promesso E lui praticamente è uno dei corpi di pace, insomma La nato degli anni... Degli anni dieci Di cosa si è spaventato? Figurare Ma cosa si è spaventato? I Era lì tipo A parte che tu hai una cartuccera con neanche un colpo dentro Sei il militare meno credibile che io abbia mai visto E chi ti credi essere? Su Exo Bridge? Ma non armi questo tizio Con cautela Lo adoro Arthur Ti faccio vedere io la cautela Forza Fammi strada Capitano Capitano Me faccio strada Capitano E questo colonel Faden, sapevi che tu sei qui aiutato a aiutare queste persone? Si e non E non E sapevo che io sono qui per produrare un rapport sulla situazione Mi sono riuscita dal nord dopo tutte le notizie dell'arresto nella regione Ma credo che mia presenza potrebbe fare cose più peggiori Cosa significa? Mi rischio che sta prendendo alcuni di queste azioni più per proteggere lui Se si può incitare più retaliazione, magari può provare una defensa più forte Mi piace di riuscita a quella strada Si E prendendo i loro bambini Cioè, non sapevo se si è personalizzato questo o non Questo è il altro problema C'è una cultura in suo reggimento Il ruolo ha passato da l'arresto Ok Allora, mostro mi dove trovare questa macchina E io farò la medicina per te Non bisogna essere involvati Grazie, signor Morgan Ponte che abbiamo fatto saltare Non investire col povero coniglio Guarda che criniere adorata che ha il suo cavallo Il mio è il semi pelato Sì Oh no No, no, questo tizio ho sparato io prima Stai a chiedendo cosa fosse successo col povero Ok Mi sta chiedendo cosa fosse successo col povero Allora Allora Allora, prima, mentre passavo c'è quello lì Oh, cos'hai da guardare? Sì, esatto, continua a camminare Io stavo continuo, cioè stavo andando per la mia strada Questo mi parla così Io ho fatto tipo Eh? Ho girato il cavallo Sono tornato indietro e ho sparato sul muso Ma ho capito Ma che cazzo ti credi di essere? Cos'hai da guardare? Sì, bravo, continua a camminare Madonna mia Mai più Infatti non lo farò mai più Ha imparato la sua lezione, credo Io sì Io fossi stato a sti tempi Avrei sparato a chiunque mi avesse parlato così No, devi lasciare Non me ne frega Non devo lasciare andare proprio niente No, 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 no Ti fai mettere i piedi in testa Uno fa questo L'altro fa l'altro E pian piano Iniziano tutti a comandare Tutti si credono i capetti Analiscio semiautomatico Non a pop, no, no, semiautomatico Voglio il mio Cecchinatore fida Eccolo qua Il mio bellissimo carcano Ah Sì, 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 sì Allora, dottor Morgan Capitano Morgan Oh, capitano dottor Morgan Sì, tranquillo Sono il tuo sicario Lei è un bravo uomo Perché lui è un colonnello e lui è un capitano No Cosa Allora Ho detto Allora Suizia Carmelo Sto Intendo Non mi preoccupare Io sono costoso che arrivano Alla cosa faccio è il costoso Quindi devo ucciderli o no? Ma che è? Sono solo due Ma non rompere le palle Stai zitto Recuperiamo medicina dal carro di fornimenti? Ma sono autorizzato l'omicidio? Secondo voi? Eeeh Certo che si Problema risolto Ma chi se ne frega di un po' di onore Voglio dire Perdo onore per due vite Ma ne guadagno per averne salvate cento Cioè Secondo me sul lago della bilancia Ha molto più peso quello che verrà dopo Da un punto di vista di onore Allora ragazzi miei Giusto per Dire che mi dispiace Purtroppo probabilmente eravate dei bravi ragazzi Mi dispiace ancora Scusate E ho preso da many della stovas Scusate In poche parole siete dei bravi ragazzi Ma avete scelto il carro sbagliato La dirigenza sbagliata da guidare Quindi Ah aspetta No Dio mio sono stato un tonto Devo solo prendere le casse? Questo dovevo fare? Questo dovevo fare? Oh si dovevo solo prendere delle casse Cerca Cassetta dei medicinali Oddio Per una cassetta di ferro Di penicillina Ci sarà la penicillina Ma forse no La penicillina non è ancora stata scoperta Quindi no Non credo ci fosse la penicillina Vabbè Per una cassetta di medicine Sono morte due persone Per tre cassette Dai Non posso dire di sentirmi in colpo Sarò onesto Non sembravo delle brave persone Ma l'apparenza di solito in gun Magari lo erano Magari non lo erano Non lo scopriremo mai Magari ho lasciato Una vedova con 18 figli Ho salvato 100 ragazzi Ho salvato 100 vite ragazzi Con queste medicine Noi Salveremo la vita Ogni intera tribù Volete dire che ho sbagliato? Non avrei dovuto sparare Quei due poveracci? No Non potete dirlo Perché non è così Non ho sbagliato Non credo proprio Di aver sbagliato Andato Ah fatto Di sicuro non potevo di certo Andare lì e dire Ragazzi per favore Potreste scendere dal Dalla dirigenza Avessi puntato un'arma Erano armati Mi avrebbero sparato Uno contro due Sicuramente mi avrebbero sparato Eh Era l'unica scelta ragazzi Era l'unica scelta Dai che ci siamo quasi Dai che ci siamo quasi Pensavo mi dessi Una missione più difficile Perché il mio cavallo Si è fermato Che gli prende Che ti prende cavalluccio Date una calmata Non siamo qui a passeggiare Siamo qui ad uccidere A portare delle medicine indietro Per giustificare i nostri Atroci crimini Aspetta Ah ma Ah mia Madonna Pensavo fosse coso Come si chiama Jimmy Cutrone Charles Sembrava Charles Da come era vestito Più che altro Capitano Potevi anche aspettare Ci ho messo tipo Due secondi A fare tutto Prego prego Non è successo uno lì Grazie Solo un dubbio Il suo omicidio Varrà impiccato Quattro volte Prego 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 E missione compiute Beh questo è stato piuttosto facile Bisogna ammetterlo Onore tra ladri